Allora, Eder no, non ha preso dal Braga, comunque, ah pure lui, mi piace molto, sia lui, sì, molto veloce, 4 milioni che offriamo, e sia l'altro che Intero, quello vero del Porto, grande giocatore, 8 milioni, e poi anche, basta, un altro attaccante, della Premier, stavolta, Borini, 4 milioni, e poi, usiamo un secondo, gli altri, 16 milioni per quadrato, che poi da una carriera mia personale non mi era salito molto, e basta, andiamo avanti, tra questi giocatori che vi ho fatto vedere ci sarà sicuramente qualcuno che comprerò, e molti obiettivi che sfumeranno, ecco, Brozovic non lo possiamo cedere in prestito perché non abbiamo un giocatore al momento, vediamo un secondo, Borini, 4 milioni, l'ha accettato, come dice, veramente pochi pochi giocatori, sono riusciti a prendere, no, nemmeno Toro, Toro Pogli, allora, iniziamo subito, Borini, giocatore chiave prima squadra, 4 anni, Interessante non sarà mai una serra per farlo venire subito, poi lui, giocatore per il turnover, potrebbe essere una buona alternativa, dei nostri attaccanti, per la Coppa Italia, per le partite meno importanti di Champions, lui, non l'ho osservato bene, però diamo giocatore importante, credo rifiderà perché vuole il giocatore per il turnover, perché sarà di essere all'altezza del ruolo, ma in golane gli offriamo giocatori chiave prima squadra per 20 milioni, sarebbe veramente, veramente un ottimo giocatore, però c'è questo problema, tutti questi giocatori non li prenderemo, perché manca solo un'ora di... di mercato, quindi, possiamo prendere solo i giocatori a cui abbiamo fatto l'offerta, e con cui siamo già d'accordo con il club, quindi, Kuczka, per il turnover, con... e manchi io, ho bisogno assolutamente di un terzino destro, perché siamo privi di terzino destro, terzino destro, quindi, andiamo avanti, vediamo qualcuno svincolato ragazzi, non so che fare, abbiamo sbagliato un po' a ridurcere l'ultimo giorno di mercato senza un attaccante, ma c'è lui, possiamo prendere lui, andiamo al giocatore io, importante comunque, ultimo alternativo a low cost, un giocatore velocissimo, che mi vede un po' sorti, ma velocissimo, e qui questi detti giocatori potrebbero essere questi detti nuovi acquisti dell'Inter, accettano tutti, tranne un paio, mannaggia, allora, allora, iniziamo subito, lui un guancho, vediamo un attimo, Nainggolan 20 milioni lo mettiamo un attimo da parte, allora, iniziamo subito da lui, lo possiamo comprare, serve come riserva, poi, Kuczka, vediamo, Nainggolan sinceramente non serve moltissimo, Maupè lo rifiutiamo, visto che non avrebbe spazio, e poi, sono rimasti questi tre, Borini, secondo me, dovrebbe fare il sostituto, la riserva di cardi, vediamo un attimo chi abbiamo, ecco, Maupè, quattro attaccanti, Maupè l'abbiamo rifiutato, quindi dobbiamo prendere per forza Borini, 4 milioni non sono tanti, quindi prendiamo anche Borini, poi, qui c'è, un Nainggolan, rifiutiamo Kuczka, e rimaniamo con 13 milioni, ma sì, io prenderei Nainggolan, ma andrei a prendere anche Kuczka, ragazzi, ci servono centrocampisti, non voglio stare senza i giocatori, quindi prendiamo tutti, e due, tutti questi giocatori, e poi al limite, peccato, non abbiamo un terzino destro, non so come faremo a giocare, non abbiamo nemmeno centrali, di ripesa, sarà un casino, ragazzi, dovranno giocare sempre tutti i giocatori, abbiamo andato i centrocampisti, abbiamo sbagliato un po' a fare il mercato, comunque, dovremmo scoprire nuovi ruoli, magari Kuczka terzino destro, non saprei, improvvisato centrale, dobbiamo improvvisare qualcosa, vediamo il terzino, Obi può fare il terzino destro, vediamo, vediamo un attimo, comunque, quello che vi dico io è che Snyder, mi sembra sia salito da 84-85, vediamo un attimo, Ma2D è salito, Snyder è salito da 85, lo sapevo che saliva, grande intuizione, Icardi, meno male, è salito, Kochi c'era già salito, Kuczka appena è arrivato e è salito, 76, grande, grande, 3 milioni e mezzo, vale già 5 milioni e mezzo, poi, Nainggolan avrà modo di giocare e basta, vi invito a lasciare un like, spero che vi sia riuscito tutto, ciao ragazzi, grazie a tutti